Una delle funzionalità rilasciate da Tableau nella versione 2020.2 riguarda la possibilità di pubblicare una dashboard direttamente su Tableau Server senza dover prima pubblicare la dashboard da Tableau Desktop. Vediamo come. Sono posizionata all'interno del project 2020.2 release al cui interno ho creato una cartella Workbook Update. Se selezioniamo e andiamo a cliccare sull'icona new andremo a vedere che è possibile creare un nuovo project, un nuovo workbook oppure troviamo questa nuova opzione chiamata appunto Workbook Upload che tratta appunto all'argomento di oggi. Se andiamo a cliccare vedremo che compare una nuova interfaccia che ci consente di andare a selezionare il workbook più aggiungere diversi altri attributi prima di pubblicare su server la nostra dashboard. Da notare che in questo caso c'è un limite di upload di 50 megabyte. Quindi questa soluzione non sarà ottimale per i workbook di grandi dimensioni ma per quelli più ridotti quindi di dimensioni più piccole. Andiamo quindi a selezionare il nostro file e andremo a caricare quello che è il Superstore Data Sample che è il classico workbook di default che si può selezionare all'apertura di Tableau Desktop in basso. Clicchiamo Open e vedremo che appunto il workbook è stato caricato e il nome sulla destra viene in qualche modo autocompilato. Tableau ci richiede anche dove vogliamo andarlo a pubblicare. In questo caso seleziona già il nostro project workbook update in cui sono posizionata. Possiamo andare ad inserire una breve descrizione. Ed infine possiamo andare a fleggare Show Sheets as Tab. Essenzialmente vogliamo visualizzare tutte le varie tab su Tableau come appunto views visibili. Clicchiamo su upload e come vedete il processo di caricamento è molto veloce ed è stato caricato con successo. Questa è una delle visualizzazioni all'interno del nostro Superstore. Torniamo nel file nella visualizzazione delle views in cui andremo a vedere tutte le views che sono contenute all'interno della dashboard e da notare che tramite questa appunto nuova funzionalità di Tableau anche i data source vengono pubblicati e andremo a trovarli in data sources. Se abbiamo la necessità di andare a modificare quelli che sono le connections non basta fare altro che cliccare su questi tre puntini e cliccare Edit Connection. Torniamo ora a questo punto su Views e come ultima nota andremo a vedere come anche tramite questa nuova funzionalità è possibile andare a modificare tutte quelle che sono anche le meta informazioni quindi si può andare a di nuovo cambiare la description spostare il la dashboard il workbook appena caricato in altri project in altre cartelle all'interno di Tableau Server cambiare le permission così come pure le tags se avete domande vi invitiamo quindi a scrivere un commento o fare al subscribe al canale di The Information Lab Italy Grazie a tutti Grazie a tutti.